Oggi proveremo a battere 10 world record di Fortnite partendo dalla speedrun più veloce di Holy Up fino ad alcuni veramente idioti Pest io partirei subito con la speedrun mentre tu invece hai un record molto particolare ovvero cadere da ogni metro di questa mappa Ah era quello il record idiota che intendevi immagino Esattamente uno dei tanti idioti comunque è già partita la mia speedrun regà mi raccomando vi lasciate subito un like Codice RF del negozio oggetti e intanto che noi due facciamo questa mappa C'è ferro dall'altra parte che sta cercando di fare il maggior punteggio in ranked cioè quindi noi due in realtà siamo anche quelli messi bene ti direi Ti direi la verità avrei preferito forse fare il record di ferro perché non ci sarei mai riuscito però almeno avrei avuto una scusa valida Qua non ce l'ho la scusa perché devo cadere e basta Vi avviso signori oggi vedrete il signor ferro più indemoniato di qualsiasi altra cosa possibile inculmabile sulla terra Perché oggi dobbiamo fare il record di punti inclassificata in una sola partita e quindi Guarda fino alla fine fino alla morte signori e che morte non ci sepa Ok no basta dire cosa è accaduto ragazzi vediamo di prenderci un belluto e pushare un po' di persone E siamo a 100 via che divertimento incredibile divertimento Cristo santo Ok let's go sono già 150 metri ragazzi sono passati solamente 40 secondi best Tu devi arrivare dove sono io e poi buttarti giù non ti pensi che sia veramente divertente Ma penso davvero che sia divertentissimo lo devo fare a 200 metri 300 metri 400 metri 500 metri fino a 1000 Cioè sei uno schifo che sia tu su world record per me Sempre si arriverai a 1000 ma in realtà poi dovresti arrivare fino a 2700 regà E questa è la difficoltà ma intanto il refe sta riuscendo con veramente tanta calma e sangue freddo A portarsi a casa un ottimo minutaggio il world record se non sbaglio è 9 e 13 giusto? Il world record attualmente è 9 e 13 freddo mi sa che tu non lo compri neanche se pagano Allora però ti dico onestamente 9 e 13 è veramente difficile però sono abbastanza fiducioso Anche perché all'inizio almeno per i primi livelli questa mappa diciamo che la so abbastanza giocare E dopo che inizia ad esserci veramente il problema zio E dopo che mi devo buttare giù qualche miseria Ok tralasciando le stronzate ci sta un player là in fondo e io non vorrei morirci Quindi devi farmi trovare un marasma o un pompa decente che non sia questo decente ho appena detto Sentite sti cavoli raga ferro è forte lo puscio comunque ferro è molto più forte raga Però è decisamente 5.000 volte più forte Sì raga mi sto cercando di autoconvincersi ve lo state chiedendo anche voi eh Ma non ci credo raga ma ma già visto Era di non ci credo Fermi ok no way Allora fermi che mi tiro questo Ok 50 Fermi 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 17 50 70 Ha uno di vita ucciso Oh mio dio Calmi però raga che onestamente ci abbiamo molto molto rischiato di morire Quindi calmo ferro come se non avessi chillato nessuno Comunque sto già a 272 metri in 1 minuto e 35 raga Molto buono onestamente Non so neanche se ce la farò Andando sempre così bene eh però Signori 200 metri si caschia di nuovo Ma che bello E completato pure i 200 Ma guarda che è un record Mica male il tuo eh No no mica male davvero mica male Perché mi sto a scartare tra i coglioni E' proprio il record del rompimento di coglioni più veloce della storia Non so quanto aveva detto coglioni in una parola Ma mi va bene nello stesso Intanto noi siamo già in season 2 raga Subito un like codice RF del negozio oggetti Mi raccomando per supportare il massimo Si vola uomo Si vola verso i 400 metri Poi io sono contento bro Ma sto a 400 metri in 2 minuti e 30 Cioè Hai vergogno di fino a una certa Perché tu Cioè di sto passo ci metti tipo 20 minuti Devi arrivare a 9 e 13 Già è buono arrivare Partendo da questo presupposto Ti dico Hai ragione in realtà Cioè non mi devo vantare Per una cosa così basilare a quanto pare Però Senza indugio sul segugio Sto già a 400 bro Easy Easy peasy proprio Certo che raga Mi spiegate una cosa Cioè Ma veramente Io non ho ancora trovato un pombo a marasmo O uno spas Ma porca di quella vacca Raga è impressionante Sta cosa Non ce ne sono neanche qua Guardate Io faccio finta di nulla Perché parole non esistono Per dire quello che sta succedendo oggi Cioè a sto punto raga Che la sfiga sia con me Veramente Altro che L'abbiamo trovato Let's go Ok Allora Ora possiamo finalmente Ripusciare Cioè Inizialmente forse Cioè Allora In realtà dovremmo pushare Perché dobbiamo fare il massimo Massimo punti E eccetera Però raga Ricordatevi che la cosa che dà più punti È la vittoria Quindi si punta le kill Ma soprattutto la vittoria Ricordatevelo Ok signori ci stanno pippone Non va bene Perché mi hanno appena Fermi No way Ma non ci credo Guardalo Guardalo da là sopra Che mi voleva prendere Sto qua mi vede Sto qua mi vede Che ci devo fare Cioè me ne devo scappare Basta Un altro No raga Altri due tizi Non va bene sta cosa Prendo kill Saltate Devo prendere le kill Per favore Fermi 34 white Ok Slash go Raga Chi lo sta presa di nuovo Altri punti Altri punti per noi Fermi 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 Che sto dragone Cioè sto drago Ok sto dinosauro Se ne va a colta Spass leggendario Oh mio dio ragazziti tutti Mitraglietta No raga Siamo messi benissimo Siamo messi benissimo Fermi Non dobbiamo mai riuscire Dobbiamo ricordare Che ci sta un player qua Calmi Calmi Mi devo un attimo Boxare e stare calmo Lo chiamavano pro player dei mega salti Incredibile Eh qua inizia a esserci veramente un momento di crisi però eh fratello Perché qua devo stare davvero attento ai salti Perché sono veramente infamissimi zio Sono infamissimi Sta season è la più infame te lo giuro Tu dici che non c'è un solo salto infame in questa nata Solo il fatto che appena tu cadi e sbagli un errore Cadi fin dall'inizio Cioè è un po' infame È proprio Eh sì sì è proprio una merda Sta lampa è veramente veramente infamissima Ed è una merda anche chi ha deciso che io devo fare questo world record Sono 300 metri e mi devo buttare giù di nuovo Bro ma perché invece di insultare chi ti fa fare questi world record non ne sei felice Cioè guarda che è comunque un world record che secondo me in pochi hanno fatto Anzi ragazzi ditemi nei commenti se qualcuno di voi è riuscito a fare un world record come quello di best Ma intanto fratello io ti dico che sono praticamente in season 6 in 6 minuti Te la puoi fare ci mancano solamente 4 season Con una fortuna Subito così mamma mia Qui abbiamo già spedronato un bel pezzo bro eh Però devo stare molto attento perché Ercubo che viene infame ma non per me Non per me Oh mio Dio qua non mi smetto di correre bro Non mi smetto di correre Recupero un po' di tempo Recupero un po' di tempo Rega mi raccomando un bel legge codice Per adesso dei negozi oggetti Che è successo? Ce l'ho fatta Ma domani pensavo che fossi caduto stavo sperando Let's go Guardalo come se ne scappa no signori non va bene 86 68 non lo so Craccato comunque Fermi Andiamo 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 a pusharlo Fermi blind No non mi è entrato Fermi 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 No way No way Non riesco ittarlo No non mi può scappare raga Fermi 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 no devo prenderlo raga per forza Raga questo è da rincorrere fino alla fine raga È da rincorrere fino alla fine raga Fermi No way Non ci credo raga non mi può scappare Ha preso una macchina ok mi è effettivamente scappato penso Fermi che raga là ci sta un altro player 34 perfetto Che faccio lo pusho ma ce ne sta un altro ancora dietro Ditemi che era quello di prima No era quello di prima che se ne stava scappando Cosa sta succedendo in questa partita? Ok siamo nel momento in cui potrai veramente iniziare a sclerare raga Siamo nel momento in cui veramente potrai iniziare a sclerare Ma non è adesso il momento Ci abbiamo fatto abbiamo superato che questo livello Vola refe vola refe quasi mille metri quasi mille metri E nel frattempo il nostro bellissimo world record Siamo arrivati finalmente alla season 2 Ai 400 metri mi devo buttare giù di nuovo Ma che bello faccio bungee jumping Non ti stai divertendo in un casino best? Un sacco mi stai divertendo Come una persona che va all'ospedale mi diverto Mille metri bro ah oh mio dio Mi sa che il record qua sarà difficile da ottenere te lo dico Io te lo dico che anche il mio sarà più difficile di quello che sembra Perché non è da tutti cadere ogni singoli cento metri Non è da tutti Non è da tutti non tutti sono in grado di completare Ma è per questo che io ho dato questo world record a te bro Perché io so che tu fra tutti sei quello migliore per un record del genere Sono il migliore a cadere Non so in che season sono zio Non me lo chiedere ti prego No No Mille metri No Porco 2 Ti prego Ti prego Ti prego non in fondo Non fino in fondo Non fino in fondo Sono con solo di 500 metri Regà Purtroppo qua mi sa che il world record Sta difficile ma a questo punto proviamo a completare la mappa E dato che sono i 400 metri sai cosa devo fare io? Ti dovrai mica buttare giù Sì esattamente questa bellissima cosa Questa fantastica cosa divertente che fa tanto ridere alle pizze Devo fare porca puttana Let's go 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 signori let's go Tutto questo ragazzi mi hanno appena fingato Cioè no raga io non ho parole veramente Con questa pistola qua a me mi pinga chiunque Basta che sparino dei colpi Pusco ha sparato palesemente a caso raga non ho parole Eh no raga non è possibile che un altro sta sparando Raga ma tutti quelli che sparano con quest'arma mi beccano Ma io non ho parole comunque sta qua dietro L'ho visto pure io godo Se almeno non puoi sfruttare questo vantaggio Vabbè Ma raga ma era suo? Ma che What the fuck No ragazzi non ho parole Ma di cosa stiamo parlando? Vabbè sentite guardiamo comunque quanti punti abbiamo fatto Per sicurezza Ma raga ma che ricordo abbiamo fatto Scusate Attenzione dal 70 Sarebbe stato meglio non vederlo forse 1400 metri Si vola Alla prossima season Let's go Season 9 Season 9 best La penultima La penultima Ce la puoi fare Ce la puoi fare Ce la puoi fare Assolutamente sì Assolutamente sì rega Un like adesso e codice Refine negozi oggetti La penultima season Cioè ormai La speed run Ormai diciamo che non è che è balzata Però quasi capisci Avanti e sangue freddo Best sono davvero davvero forte best No ti prego fammi una cosa Ragazzi dopo gli ultimi 3 world record alla quale non è che siamo usciti troppo vittoriosi devo ammetterlo È il momento del salto più lungo nella storia di Fortnite ragazzi io proverò con la macchina Voi dovete provare con altro scusatemi E io c'ho un camion gigante volante Con molta calma con molta calma io vi faccio vedere qua Si completa in questa maniera con molta molta parsimonia Vai Si va indietro Si prende un po' di sprint Si deve andare totalmente dritto Ok Ti prego a terra giusto Eh allora io potrei aver mistato la rampa invece no Sì esco Ok sto volando rega sto volando rega Pure io Do il turbo Do il turbo Attenzione 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 250 metri 200 qualcosa metri Attenzione arriviamo in 300 chilometri Vai Vai E io ho il carrello della spesa Io rega 420 non è un world record purtroppo bisogna fare di meglio porco mondo Non so perché non mi ha dato il doppio della velocità bro ma non mi interessa Vabbè io sono caduto dalla rampa Sto andando No 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 devo andare devo andare più in alto devo andare più in alto devo andare più in alto Steve ma stai l'hai superata hai superato tutto Easy bro easy bro easy Non è vero non è vero non è vero sto per atterrare Sto per atterrare Io parto con la moto Let's go Oh rega ho fatto 500 chilometri Io ti supero il ref di brutto 500 Ok no no volo volo vado avanti ancora Vai 672 signori No Perché è ancora besta il primo posto Non lo so non lo so non me lo chiederei non me lo chiederei Ma io bro Ma è impossibile però con sta moto ma mi scusi Signori Lamborghini questo secondo me potrebbe essere un record per col boost strappompatissimo Potentissimo Io sto volando solo Non fai volare così tanto in alto ma me lo spieghi Sai che è una bella domanda non lo so neanche io Già sinceramente Comunque Volo pure io Marte in carrix Attenzione La Lambo La Lambo Supero tutti io No fra io supero ferro mi sa La Lambo Non lo so bro volo Volo troppo 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 408 con la macchina super futuristica Vabbè bro è un cacchio in realtà come i miei 480 porto 2 Ragazzi prossimo record È importante qua essere molto attivi Qui si deve raggiungere la massima velocità di fortnite Let's go Volate ragazzi volate uomini Sparatevi le splash velocissime Oh mio dio sto volando Tirate sul martello Let's go Mamma mia raga 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 sto andando velocissimo Raga sto andando velocissimo Guarda io No raga 8000 all'ora 10.000 all'ora È impossibile fermo come fai Ferro qua Ok sto volando più di te sto volando più di te Non è allora Non è allora Non so quello che è bro noi meritiamo che allora d'accordo Eh come fuggire il tuo martello io non capisco Ma mi blocco in un minuto E poi sa No devi Per niente devi tirarlo su Quando arrivi alla massima velocità bro salti e lo usi Fai di quei salti broder assurdi Mamma mia Oddio Che ho fatto Hai fatto la massima corsa bro Signori Lo tiro su Lo tiro su Ma raga sono i 10.000 orari vi giuro non so Dove si vede la velocità che non la vedo Non la vedo Non si vede diverso Raga sto andando piccolissimo What Oddio in che senso sei piccolissimo Sono piccolissimo Ah Una formica Best Best dove sei Sono nel mondo quantico ragazzi Più tu Antman Più tu Antman Sono minuscolo anch'io Oh mio dio Sto volando Sto volando Voglio dire che io minuscolo Raga Direi che abbiamo già completato il record raga Cioè più di così secondo me non si può andare Veloci su Fortnite onestamente Ma attenzione perché Ci stanno sempre gli ultimi tentativi da fare Oh mio dio Raga Raga No 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 Non avete capito ho battuto tutti i record del mondo Ho battuto tutti i record del mondo In che senso No raga No raga ho suonato velocissimo Sono andato davvero velocissimo Direi che questo è un world record Certificato Da chi? Da noi Ragazzi questi erano i primi 5 world record Se volete gli altri 5 Mi raccomando C'è un bel like Arriviamo a 2000 like Mi raccomando Codice RF Sembra per sempre nel negozio oggetti Noi ci vediamo nel prossimo video Quello della vostra edizione E dalla gang è tutto Bella raga Grazie a tutti ieri Grazie a tutti